buonasera ragazzi mi ritro oggi costretto purtroppo a dover dire la mia su tutta la questione successa in questi giorni su tutte le robe dette sul mio conto in questi giorni molte di queste non vere quindi accuse pesanti quindi io devo in un modo o nell'altro difendermi e dire la mia inizio col dire che noi siamo persone di strada come molti molti di voi sanno siamo andati in strada venuti dalla fama venuti dal niente il meraviglio del fatto di come persone che con cui ho dormito insieme per tre anni hanno cercato in qualche modo di rovinare me tutti i miei amici di rovinarmi la carriera in questo modo dicendo dicendo molte falsità anche conoscendomi quindi in in questa questione purtroppo è stato scambiato il concetto di violenza con il concetto di rispetto con questo voglio dire che se noi siamo stati delle persone che hanno sempre ricevuto del rispetto non vuol dire che siamo delle persone violente ricordando il fatto che dicevo che noi siamo persone venute dalla strada venute dalla fome venute dal niente siamo andati con vari principi e uno di questi è sicuramente la la parità dei sessi la parità delle razze e che chi mi conosce assolutamente sa questo quindi è inutile anche continuare il discorso su questa roba e parlando sempre di violenza è ingiustificabile sia da parte dell'uomo verso la donna che è il contrario e con questo non voglio continuare altro siamo persone che a me non piace infatti sono mega disagio come dicevo mi trovo a disagio a dover fare sta roba ma purtroppo non volevo ma mi trovo costretto cioè mi trovo costretto con questo cioè penso di volerla chiuderla chiuderla qua non parlare più di questa roba e non voglio usare questioni personali per farmi hai un'unica cosa che vi posso dire che hanno nuovo roba nuova con questo fuck love taxi un saluto ragazzi fa ancora violenza let's go